Dopo la presentazione dell'Aquila anche il palcoscenico di Milano, la grande partenza dall'Abruzzo del Giro d'Italia 2023 nel pomeriggio meneghino organizzato. Da RCS Sport che ha svelato tutte le frazioni della Corsa Rosa si parte sabato 6 maggio con il crono prologo 18,4 km da Fossa Cesia Marina fino ad Ortona lungo la Via Verde che diventerà il palcoscenico della prima grande prova per chi vorrà aspirare al simbolo del primato. Però per noi è anche una grande occasione di presentare un territorio meraviglioso. Oltre alle montagne vedrete un mare sorprendente come ha detto bene all'inizio, la costa dei Trabocchi dove è stata realizzata una pista ciclabile praticamente nuova di Zecca la stiamo collaudando e inaugurando in queste settimane. Stiamo vedendo delle immagini bellissime. È ricavata da una sede ferroviaria, prima ci passava la ferrovia a sfioro del mare, si è arretrata la ferrovia, le ferrovia hanno lasciato questa sedime sul quale la provincia con l'aiuto della regione e dei comuni sta realizzando questa pista. Gran parte è già realizzata, ci si svolgerà da Fossa Cesia Marina o d'Ortona la prima tappa, la parte sud è in buona parte già realizzata, mancano un paio di collegamenti un po' più complessi da realizzare per i quali abbiamo già finanziato l'intervento, quindi l'occasione di far conoscere a centinaia di milioni di appassionati di ciclismo quella che io considero e sono pronto ad accettare la sfida, la pista ciclabile più bella del mondo e farla vedere con questi proiettili umani che corrono a 60 all'ora sulle due ruote e forse dico poco, 60 all'ora, sulle due ruote credo che sia davvero un'occasione unica per farla amare da tutto il mondo del ciclismo. La seconda a Teramo San Salvo e poi il viaggio verso sud con Melfi, Lago Laceno, Napoli e la risalita da Capua fino al primo vero arrivo in salita a Campo Imperatore. Per noi è davvero un orgoglio, un privilegio poter ospitare la grande partenza e non solo perché sarà una edizione un po' particolare, normalmente chi ospita la partenza fa le prime tappe e poi il giro lo vede in televisione. In Abruzzo si tornerà perché l'Abruzzo si sta caratterizzando anche per quel, io l'ho ribattezzato così, tappone appenninico che in montagna costringe i ciclisti a mostrare i numeri un po' in anticipo rispetto alla tradizione che aspetta un po' l'ultima settimana, le Cime Coppi, le Dolomiti e noi abbiamo convinto anche gli organizzatori e chi disegna il giro in questi anni che le montagne abruzzesi nel centro dell'Italia sono montagne di tutto rispetto che non hanno nulla da invidiare alle Alpi e al resto del mondo e dove i ciclisti vengono messi a dura prova, non a caso nelle ultime due edizioni chi ha vinto la tappa sulla montagna abruzzese ha vinto il giro d'Italia. Poi le altre salite, quella di Cran Montanà, il Monte Bondone, le Tre Cime di Lavaredo il venerdì prima della crono scalata sul Monte Lussari a un passo dal confine con la Slovenia di Tadej Pogacar a cui la corsa fa l'occhiolino così come al neocampione del mondo Remco Evenepul. Passarella finale a Roma dove il trofeo senza fine avrà un nuovo padrone per il momento però ce l'ha Jay Hindley e per lui cresciuto ciclisticamente in Abruzzo la migliore partenza possibile per cercare di riconfermarsi. Occhi puntati anche sul nostro Giulio Ciccone che farà certamente classifica per un Giro d'Italia 2023 ancora più ricco di campioni e che tenta la rimonta in termini di fascino al Tour de France.